Si è aperto ufficialmente stamattina in Sala Chilesotti, in città, la presenza del sindaco, il quarto simposio internazionale emodinamico sui disturbi venosi dal titolo 360 gradi di safena. Molti luminari presenti anche dall'estero come Cina e Francia per parlare di varici e delle ultime frontiere della medicina. Togliere o distruggere delle vene varicose, la safena eccetera, si può fare, è molto facile. Ci sono anche vari attrezzi come il laser, tante cose, ma queste terapie dimostrano di avere delle recidive più importanti di quelle che conservano quella safena, perché la safena può essere vitale nella vita, dopo uno ha bisogno di un bypass di un'arteria del coronario, per esempio il cuore, per le arterie, per evitare un'amputazione e che è vitale. Dunque è pegato ad andare a distruggere delle vene per una patologia benigna quando c'è un rischio possibile di avere una patologia vitale che potrebbe salvare la vita. La due giorni di simposio, che si concluderà domani, viene ospitata per la prima volta a Bassano del Grappa. Noi cerchiamo di tracciare quelle che possono essere le informazioni più approfondite per poter realizzare delle strategie efficaci e per raggiungere chiaramente i risultati terapeutici ottimali per il nostro paziente.